Ciao a tutti, sono Leonardo Musa, rappresentante del Polo Liceale e sono qui con Luca Carofiglio, rappresentante del Paolini Cassiano. Vogliamo raccontarvi oggi la nostra esperienza con Open App. Siamo oltre che rappresentanti di istituto rispettivamente del Paolini Cassiano e del Polo Liceale, anche rappresentanti di Futurimola, un'associazione che racchiude tutti e 16 rappresentanti degli istituti imolesi e che da ormai un anno lavora sul territorio per tutte quelle che possono essere le iniziative che riguardano gli studenti. Abbiamo collaborato, come diceva Leo, con i ragazzi di Open App per la realizzazione di un questionario che mira a raccogliere tutte le problematiche, le idee e le proposte dei giovani per la città di Imola. Forse è stata la prima volta che noi ragazzi ci siamo sentiti parte della vita della nostra città, abbiamo potuto esprimere le nostre opinioni e dare dei consigli direttamente a chi gestisce la città di Imola. Infatti ci siamo sempre dati il compito di non schierarci politicamente come associazione intendo e questo però non voleva dire non prendere parte attivamente alla vita della città e di tutte quelle che sono le funzioni dell'amministrazione. Infatti nuova amministrazione e subito ci siamo resi disponibili per collaborare ed è stato un grande passo avanti oltre che motivo di orgoglio per noi rappresentanti. Questa iniziativa ha suscitato molto interesse per i ragazzi, ci auguriamo il meglio e vi salutiamo e vi ringraziamo. Ciao ragazzi!